Possiamo vedere che gli arcieri riuscirono nella distanza, i tartari, quindi tutto che potremmo riuscire ad entrare nel cancello che erano stati, non salvavano la vita. E la città è la città da questo punto di vista, mentre invece questa di fronte a noi è la chiesa di San Pietro e Palo, quella che è più importante, insomma, di...